Intro Benvenuti a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Sono Texmot e oggi siamo qui con questo video informativo Lo avrete già capito dal titolo Voglio aprire un secondo canale Era un'idea che mi anticipai già in due video scorsi se non sbaglio E che mi sto portando in testa da più o meno due settimane Perché voglio aprire un secondo canale? Perché il primo canale principalmente sta andando bene Sta dando i suoi frutti Siamo arrivati a 700 e passo iscritti E Destiny appunto è un gioco che mi piace Continuerò a portarlo sempre e comunque Però c'è una parte di me che vorrebbe portare giochi più diciamo completi Nel senso che hanno una storia alle spalle E che comunque sia sono interessanti Quindi che cosa ho detto? Siccome nel canale principale io ci ho già provato a fare una cosa del genere Come è stato per Far Cry Primal Che adesso i video li ho eliminati Perché ho detto vabbè tanto questi video non si è in culo a nessuno E inoltre il mio canale parla principalmente di Destiny Quindi la gente che si è iscritta a questo canale vuole vedere Destiny come giusto che sia Quindi che cosa ho pensato? Ho detto invece che fare magari un secondo canale dove faccio stronzate e altre cose stupide Perché non faccio il secondo canale che parla di giochi sempre Ma un genere totalmente diverso da quello che è Destiny E quindi fare appunto serie wall throw per tutte le persone che amano i wall throw Vi sto dicendo questo e più che altro state vedendo sul mio canale perché magari c'erano 5-6 persone che volevano vedere tipo Far Cry Primal e gli piaceva Quindi lo dico perché comunque sia ci sta gente che oltre a piacere di Destiny magari vi piacciono anche i wall throw Quindi se magari vi interessasse una cosa del genere Se vi interessasse una cosa del genere Può andare sul mio secondo canale e magari vedere lo stesso youtuber che fa anche un altro genere Quindi se magari tu che stai guardando sei interessato ai video di Destiny ma ti piacciono anche i wall throw A breve sul mio canale vi vedrai anche fare queste serie Dico a breve perché oggi sono riuscito a comprare Dark Souls 3 Che sostanzialmente non è proprio un genere di gioco dove si possono fare i wall throw Ma forse ho trovato un modo per fare una cosa del genere con dettagli relativamente particolari Senza stare troppo a soffermarsi e fare gameplay troppo lenti Ci sono un gameplay di 10 minuti dove magari riesco a farvi divertire allo stesso tempo e capire anche la storia di Dark Souls 3 Naturalmente non ci sarà solo quello poi porterò altri giochi e negli altri giochi tra virgolette normali Come per farvi capire un gioco stupido Magari ecco Ratchet e Clank che non è stupido Però magari Ratchet e Clank non è un gioco difficile nel senso per quanto riguarda il montaggio Semplicemente faccio dei tagli dove ci sono i punti morti ma non sono come Dark Souls Perché sicuramente Dark Souls ogni 2x3 devo fare un taglio Perché sennò diventa troppo pesante Mentre gli altri giochi normali essendo proprio una modalità avventura Magari escono meno tagli e quindi più divertente Cioè più fluido, più lineare Quindi su questo secondo canale che troverete qua Praticamente troverete Adesso non troverete un cazzo sostanzialmente Ci sono zero video Però se volete iscrivervi già da subito potete tranquillamente farlo E da lì riuscirete poi a vedere a breve appena mi finisce Di scaricare spero entro domani Perché lo lascerò acceso tutto il giorno nella Playstation in modalità riposo Ma dovrebbe scaricare subito Però spero che entro domani di riuscire a portare appunto già il primo episodio Sicuramente signore e signori ci divertiremo Io finalmente mi divertirò e farò una cosa che è da tanto che desideravo fare Sostanzialmente perché diciamo i volto possono essere noiosi Si non si sa fare i tagli Ma io ho visto che sono più o meno due anni che sto su Youtube Non è che ho tantissima esperienza Ma i tagli e il montaggio penso di essere a un buon livello Quindi magari posso provare a fare questa cosa Anche perché i soldi un po' li prendo da Youtube E un po' li ricavo da solo Quindi alla fine riesco a portare su le mie spese qualcosa di veramente più grande Vediamo se riesco a passarmi la partnership su questo canale Sul secondo canale così che ne entrano più soldi Ve lo dico tranquillamente Ne entrano più soldi E magari posso appunto comprare più roba Per quanto riguarda poi le serie Voltrovo e i futuri DLC per Destiny Quindi signore e signori vi ho assidato per 5 minuti Però valeva la pena farlo Trovate il link del secondo canale in descrizione se non avete cliccato prima Quindi tutto a posto Non vi chiedo di lasciare like Perché questo è un video informativo Non è che mi servano like e roba varia Però vi posso dire al massimo Lasciate like per quelli che si trasferiranno Cioè che metteranno il piede anche sull'altro canale In modo tale che capisco quanta gente che sta su questo primo canale Si trasferirà anche su quell'altro Quindi signori e signori Da Dexport è tutto Ci vediamo al prossimo video Bella Ciao